Io sono convinta che il sacrificio di mio padre sia servito, anche perché pensare il contrario sarebbe veramente insopportabile. Un sacrificio, quello del generale Carlo Alberto dalla Chiesa, che i figli Simona, Nando e Rita hanno voluto onorare attraverso un libro che racconta la vita di quel papà eroe dalla profonda generosità. Un uomo leale, con un grande rigore e senso del dovere, che riuscì ad essere un padre affettuoso e allo stesso tempo un uomo di stato coraggioso. Le pagine del volume Carlo Alberto dalla Chiesa, Un papà con gli alamari, sono state raccontate a Catanzaro grazie all'associazione Gutenberg, a 35 anni, dalla strage di Via Carini a Palermo, quando il generale venne ucciso in un agguato. Il libro di Simona è naturalmente straripante di affetto per la figura paterna, ma tocca il suo vertice proprio nei passaggi conclusivi, laddove tratteggia l'ambiente palermitano chiuso, ostile, refrattario, preoccupato di respingere questa ingombrante figura. Quell'immagine tenera del generale dalla Chiesa, spesso nascosta dietro l'ufficialità della divisa, è così venuta fuori attraverso le parole commosse della figlia Simona, affiancata dal prefetto di Catanzaro Luisa Latella, che condanna episodi come quello di pochi giorni fa, quando è sparita la bandiera sotto la lapide che ricorda il sacrificio del generale rubata per la terza volta. È successo troppo spesso che abbiamo messo i fiori e sono stati tolti, che abbiamo messo la bandiera ed è stata strappata. Lo Stato e quel tricolore che per noi ha significato così tanto sono più forti di ogni malvagità nei confronti dei simboli che rappresentano la storia migliore del nostro Stato.